cerca le strade per trovare una cultura nuova. Ecco, ma a proposito di questo, qual è il limite, cioè il confine che separa la pluralità delle opinioni dalla confusione in un partito come il PD? Ecco, questo rivolgiamolo un po' a tutti gli italiani, questa domanda. Noi abbiamo un sacco di difetti da correggere e così via, ma bisogna che l'Italia decida. Noi saremo comunque sempre un partito che ragiona l'aria aperta. Noi non avremo padroni. A un certo punto, certo, non abbiamo Arcore e non abbiamo Via Bellerio, questa è una differenza di gusti. Ma non è che le lobby influenzano un po' troppo il PD? Un articolo, un editoriale di Repubblica vale più di un'assemblea? Si dice questo? No, non lo so. Non è vero? Io penso che l'assemblea, se sempre frequentata, ti dà un respiro più lungo. Senta, ma qual è il risultato minimo per considerare un successo del regionale per me? Ma la destra, naturalmente, dopo i risultati delle europee, pensa di metterci una riserva indiana. No, per lei? Per me uscire da lì e dimostrare che noi... Numeri, mi faccia dei numeri. No, numeri no, no, numeri non le faccio. Perché no? Ma anche con una forchetta. C'è anche la qualità dei risultati, c'è ragione, ragione. Io dico lì, ragioneremo e ragioneremo realisticamente, sinceramente. Io non sono un tipo che racconta cose che non esistono. Se è una sconfitta la chiamerò sconfitta, se sarà una vittoria la chiamerò vittoria. E se è sconfitta si dimette? Eh? Se è sconfitto si dimette. No, no, io penso che non saranno sconfitte. Vabbè, questo lo immagino. Non è che lo spero, lo penso. Dopodiché io so che noi ci siamo dati un percorso, il percorso è quello dell'alternativa. Vabbè, quindi non si dimette. E quindi, assolutamente. Qualunque sia il risultato. A Bologna chi vorrebbe candidato? Andiamo a darci un... Per quello che scelgono i nostri agenti, i cittadini bolognesi. Se lo scelgono i bolognesi, il candidato. Assolutamente, sì. Va bene. Senta, l'onorevole Chiamparino ha detto che bisogna comunque pensare a un candidato premier per il 2012. Se invece non se ne va via, comunque sia, sarà lei il candidato premier. No? È il segretario del partito il candidato premier. Ma vediamo quando siamo là, naturalmente. Perché può darsi di no? Lo discutiamo adesso del candidato del 2013? Può darsi di no? Ah sì, no, può darsi di sì. Ah, può darsi di sì. Non lo escludiamo, diciamo. Assolutamente, non lo escludiamo. E neanche l'ordine del dottore, ma non lo escludiamo. Va bene. Senta, le faccio un'ultima domanda. Berselli, sull'Europeo, si chiede che carte ha in mano Bersani? Lui dice pochine. Lei invece quante carte si sente? Che carte si sente in mano? Vorrei dire a Berselli, la cosa è un po' come una clessidra. Noi adesso siamo un partito giovane, siamo nel punto stretto. Ma abbiamo dietro delle radici una forza enorme e davanti una funzione enorme. E quindi la carta che abbiamo è il futuro, è quel mondo lato e nessuno può stare bene da solo. Grazie.